Siamo a Barghe, in media Valle Sabbia, lungo un corso del fiume Chiese, in quella che era l'ex centrale idroelettrica di Barghe. Questo fabbricato ha una storia lunga, affascinante, che inizia nel 1902. Era fondamentalmente destinata a servire da un lato la Valle, che al tempo iniziava a sviluppare un sistema importante di tramvie, e dall'altro la città di Brescia. Ha continuato a funzionare fino agli anni 60, per poi essere dismessa pochi anni dopo, fino a che nel 1974 è stato acquisito dal Consiglio di Valle Sabbia, destinato a centro socioeducativo, per questo ha subito anche una ristrutturazione importante, che l'ha portato sostanzialmente a quello che è il suo assetto compositivo distributivo attuale. Attualmente stiamo lavorando ad un progetto di recupero della centrale, il cui obiettivo fondamentalmente è quello di farla tornare ad essere un luogo di produzione. Un tempo produceva energia elettrica al servizio della valle, al servizio della città, oggi produrrà altro, produrrà cultura, produrrà formazione, produrrà informazione. Il progetto prevede sostanzialmente il recupero degli interni e degli esterni dell'immobile, e ha come obiettivo quello di riportarlo per quanto più possibile alla sua consistenza originaria. La destinazione di questo immobile si sta organizzando in maniera piuttosto particolare e in maniera piuttosto inclusiva. Stiamo organizzando un processo partecipativo. È un processo che riguarda la popolazione tutta e che ha obiettivi ben specifici. Dare una soluzione reale, continuativa e di necessità scelta dalla popolazione locale e dalla comunità tutta. Il progetto culturale che si connette all'interno dei valli resilienti alla centrale idroelettrica di Barghe è quello relativo essenzialmente alla mappa di comunità. Si tratta di una rappresentazione dei luoghi del cuore della valle, quindi di ciò che i cittadini ritengono una rappresentazione importante. La mappa di comunità è sia una rappresentazione digitale, ma sarà anche un'installazione fisica. Abbiamo chiesto all'artista Gabriella Goffi di darci una mano. Un gruppo di lavoro sta elaborando questa installazione che è dipinta, tra l'altro, su un telo che proviene dal cotonificio Bresciano Tolini, in cui abbiamo deciso di ridisegnare diciamo così artisticamente in maniera più creativa la mappa con la tempera, ma di soprattutto punteggiare la mappa stessa di alcune fotografie stampate su tela che naturalmente indicano i luoghi significativi segnalati dai cittadini. Rebecco è un piccolo borgo nella frazione di Lavone che è una frazione del comune di Pezzazze nel cuore della Valle Trompia. È un posto magico perché è rimasto conservato nei secoli e in qualche modo racchiude la storia e la tradizione dei popoli che hanno vissuto in questa valle direi quasi dagli inizi della storia. Gli edifici che sono qui ancora conservati sono edifici rurali e quindi al loro interno troviamo la stalla, troviamo il focolare per riscaldare il latte e fare il formaggio, il fienile che serve ad alimentare le bestie. Intorno ci sono ancora i prati e sono ancora tagliati per produrre foraggio. Per questo motivo l'abbiamo fatto oggetto di studio insieme all'Università di Brescia coinvolgendo gli studenti, coinvolgendo le scuole e il territorio per avviare un esempio di restauro rispettoso e di valorizzazione nella speranza che l'esempio che noi diamo sulla parte meridionale di questo borgo possa contaminare il resto degli edifici che sono qui presenti. L'intervento qui mira a una rigenerazione del tessuto anche sociale di coloro che abitano e vivono ancora nella valle e quindi la nostra aspirazione è che questo posto venga affidato a delle energie nuove che guidate da una serie di indicazioni che sono state contenute nei bandi che noi abbiamo fatto, costituiscano un volano di attrazione e di opportunità per tutte le realtà agricole e di trasformazione dei prodotti della terra che ancora resistono nell'ambito della nostra valle.